la fiesta del carneval alla palazzina sabatelli diciamo che tutto pronto diciamo quasi ci stiamo attrezzando stiamo facendo delle prove sai per la corrida mi deve ancora arrivare il toro ne abbiamo provato uno finto ma adesso arriverà quello vero sì sabato 8 febbraio sarà la prima grande festa di carnevale faremo una corrida una vera corrida non proprio con dei delettanti ma delle persone che sanno cantare ballare raccontare le barzellette poi ragazzi ci sarà anche il balletto del pubblico grazie a mattia diamantini e giuseppe lo chef michele renga della palazzina non vi dico che nomi mamma ha spedito non ci ho capito niente cosa ci darà da mangiare ma sicuramente a tema spagnolo che conosciamo bene tutto ma la specialità è sicuramente nel termine della cena non ci sarà la lotteria ma ci saranno dei premi meravigliosi a sorpresa il tema è libero quindi non dovete vestirvi per forza da torrero o da spagnolo insomma mentre la scenografia e l'ambientazione sarà appunto dedicata alla spagna e poi chi verrà e sarà con noi scoprirà il perché per prenotare telefonate come fate sempre a me a mario a nino leo e compagnia rosciano insieme se non vi ricordate i numeri di telefono telefonate anche qui a fano tv che ve lo daranno mi raccomando vestitevi bene perché ci saranno anche le telecamere di fano tv mi raccomando vi aspetto tutti l'otto febbraio palazzina sabatelli dalle ore 20 in poi musica balli all'infinito con chi con atos donini silvia cecconi dei balaonda che sono sicuramente una garanzia la magia del ritmo siente su vibrar bebe su